Salve a tutti, sono Ligo Cischi. Sono un incisore, mi occupo di calcografia e stampa d'arte da circa 30 anni. Sono onorato ma nello stesso tempo mi sento anche in dovere di collaborare, di partecipare a questo progetto di Restart Dolomiti donando quest'opera, un'opera incisa con le tecniche dell'acqua forte e della punta secca dal titolo Più non sento il freddo dell'inverno, un'opera esimita negli anni, nei primi anni del 2000 e che ha partecipato anche a vari personali e a collettive tra concorsi biennali e triennali europei. Per me l'Android è sempre stato il correlativo oggettivo dello Stato d'animo, uno Stato d'animo che in questo momento è stato messo a dura prova, è stato messo in ginocchio ma è sicuramente pronto a risollevarsi, a riscattarsi grazie anche a queste nostre iniziative, a questa iniziativa da parte mia di tanti colleghi che fanno, danno questa donazione, sentono questa solidarietà, questa condivisione insieme ma spero anche nel vostro contributo, nel essere numerosi il 26 gennaio prossimo all'asta e che gli esiti siano di quest'asta soddisfacenti, positivi. Il mio ringraziamento e il mio orgoglio a tutti voi. Grazie ancora.